C'è un problema, il problema per me che salta agli occhi di tutti è quello del razzismo etnico. Ora mi spiego, Sinti e Rom in quanto Sinti e Rom possono andare oltre la legge, non vengono controllati come tutti gli altri per cui non devono dichiarare un ISEE come qualunque persona per accedere ai servizi, ma gli sono di fatto voluti in quanto Sinti e Rom. Il razzismo è verso gli italiani che tutto questo non possono averlo. Ora nella regione, nell'Emilia Romagna, hanno deciso di fare il superamento dei campi nomadi. Il superamento dei campi nomadi in realtà cos'è? Uno stanziamento della regione che cofinanzia delle nuove aree insieme ai comuni, dove i campi nomadi che ora hanno magari 100-200 persone all'interno diventano piccole aree che diventeranno grandi.